Sono partito da una situazione veramente complicata a livello personale, da che non avevo neanche un euro per bere caffè. Da quanto seguo ricchezza vera e sono membro gold dell'Energetic Coach con Anna Maria Ginet, la mia vita è stata stravolta, soprattutto dal punto di vista finanziario. Attualmente gestisco un'azienda che fattura 150.000 euro l'anno, ho dei dipendenti, mi sono trasferito a Malta. Insomma posso tranquillamente dire che la mia vita è stata completamente stravolta grazie ai miei due fantastici coach Anna Maria e Iosè.